Buongiorno padre Oredio, buongiorno! Allora, voglio raccontare una parcelletta? Ma fin da giovane mi è sempre piaciuto raccontare barzellette e storielli. La tribù che prendono un cristiano, il paget, cioè il capo tribù, dice ai suoi seguaci, questo lo mangeremo per Natale. E gli ha detto, perché per Natale? Perché per Natale i cristiani è essere più buoni. Ah, ecco! Fra Valerio è il mio confratello, anziano e simpaticissimo. Fra Valerio è poco in serio. È uno dei più grandi missionari. Fra Valerio è poco in serio. Fra Valerio è poco in serio. Grazie! Klav Kerreich Per quando non si compalla l'alomangelo gli amici è a città. Pace bene, sorridi e dona un sorriso. semplice, originale e simpatico ma per la missione!